ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi questo è un vecchio glitch dei soldi si faccio anche la battutina perché comunque è un glitch che diciamo funziona ancora è della patch 1.17 ma ho provato e riprovato e funziona abbastanza bene anzi vi dirò che mi sembra anche addirittura migliore allora come sapete tutti hanno mandato questa patch questa grandiosa patch piena di contenuti stratosferici un sacco di cose che stanno c'è stancazzo c'è stancazzo regalo 1.18 non c'è un cazzo sono una manica vabbè lasciamo sta passiamo al glitch allora per passo qui ci avete bisogno di due garage come avete visto io sono partito dal primo e vado verso il secondo vi avvicinate al primo garage dovete stare scarichi di soldi ovviamente quindi è scontato per me perché questo glitch eravamo già fatto quindi tutti lo conoscete stando scarichi di soldi vi avvicinate qui fate in modo che comunque il gioco vi da garage pieno dopodiché cancellate andate sulla meriweather e chiedete un bombardamento ragazzi un bombardamento qualunque cosa sia insomma qualunque cosa vi possa portare nello store fatto questo andate per accettare il bombardamento non avete soldi giustamente vabbè comunque scendete dalla macchina quando state appoggiare il culo dentro a alla macchina accettate vi dirà attenzione e garage pieno garage pieno restate sull'allerta del garage pieno schiacciate x e vi porterà nello store come sta facendo con me con molta tranquillità non c'è bisogno di correre per far sto glitch niente rincorsa niente niente di niente e fatto questo uscite dallo store eccolo qua il gatto psicopatico di sempre eccolo qui ragazzi essi è sempre il mio gatto con le manie di protagonismo va bene comunque dicevo appena tornati spawnerete fuori farà un piccolo lag che vi porterà dentro il garage dopodiché andrete a sostituire un'auto anche di lusso che comunque andrà a finire nell'altro garage non la perderete però la seconda che metterete nel garage la andrete a perdere insomma in questo caso allora io che cosa faccio esco vado a prendere l'altra auto che è spawnata fuori e automaticamente la metto dentro in questo garage ragazzi io l'ho fatto con l'eleggi però se lo fate con la sultan ammazza che cazzate che dico con la sultan però voi se lo fate con la eleggi dovreste avere bypass dei 48 minuti perché comunque essendo un auto di lusso ve la farà vendere una dietro l'altra e una volta fatto questo niente entrate nel garage e sostituite l'auto una volta sostituita l'auto ce n'avete due avete fatto l'unplane niente dai a parte gli scherzi questo è il glitch adesso vi faccio vedere che comunque la patch è la 1.18 che non vi sto a ripropone una minestra ripassata insomma questo è diciamo la dimostrazione pratica che siamo nella patch 1.18 e niente adesso andiamo a vedere come vedete patch 1.18 ragazzi per questo glitch è tutto un saluto da maxi il mio gatto se l'avete sentito e al prossimo video ciao a tutti ciao